Stato di agitazione dei forestali in attesa ancora dello stipendio di giugno, una situazione che investe in tutto 503 operai stagionali che si occupano del servizio antincendio. Una piccola delegazione capeggiata dal segretario provinciale del sindacato UGL categoria agricoltori e forestali Angelo Ferrara, stamattina infatti si è ritrovata dinnanzi la sede dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per manifestare il loro disagio e chiedere risposte. Il problema è che praticamente con questa legge che hanno fatto la regione, che ci hanno unificato, abbiamo trovato tanti disagi. In sostanza tutto il servizio antincendio che dipendeva dall'ispettorato qua dove siamo in questo momento, tutti gli operai ci hanno portato con unificazione all'azienda. I disagi che noi stiamo vivendo sono praticamente i stipendi, che in sostanza è dal mese di giugno che lavoriamo. Non prendiamo stipendi ma praticamente per andare a lavorare noi abbiamo bisogno di soldi, anticipiamo soldi di benzina, soldi... E a parte questo abbiamo disagi in famiglia, disagi dappertutto. Abbiamo bollette da pagare, ritardo, pericolo di tagliare la luce, l'acqua e tutto quello che c'è. Ora dico, non vogliamo sapere se la colpa è alla regione, se la colpa ce l'ha all'ispettorato, se la colpa ce l'ha all'azienda. Noi ci troviamo nel mezzo, andiamo sbattendo la testa a destra e a sinistra e fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta di pagamenti. Sappiamo che ci saranno ritardi. Allora, in questo momento siamo venuti noi, possibilmente incominciando da domani. Inizieremo anche a fare un sit-in, non sappiamo ancora dove, ma possibilmente lo facciamo qua, lo facciamo in prefettura, lo facciamo nei posti di lavoro, dove ci devono dare noi soldi, ma almeno di metterci perché il servizio che noi svolgiamo non lo possiamo abbandonare. Allora, ci mettono in condizione che ci portano nel luogo di lavoro, con i suoi mezzi, con tutto quello che hanno, per non abbandonare il nostro lavoro, che è importante. Facciamo un lavoro importante e criticato da tutti, incominciando dalla regione, a finire. La devono finire di dire, questi operai sono 25.000, sono 26.000, che devono fare i conti, devono fare una pettinata nelle gradatorie, che ora lo sto dicendo, nelle gradatorie perché spuntano ancora gente dove è in pensione e possibilmente anche gente che è morta che spuntano ancora in gradatorie. Allora, questo è da precisare perché io come segretario UGL incomincio a indagare in questa situazione. Le difficoltà sono che intanto dobbiamo andare a lavorare e anticipare i soldi, poi qua in azienda e all'ispettorato non si capisce chi comanda, perché veniamo all'ispettorato e ci comandiamo all'azienda, dall'azienda un ping pong, poi non ho visto mai un'azienda che si prendono tutte le ferie ad agosto, tutto uguale, almeno uno deve restare un responsabile e questo non c'è.